ciao allora oggi parliamo di sopracciglia che sono sempre la ricerca del prodotto buono per sopracciglia in questo caso se non mi cade la matita eccola qui questa della essence si chiama super last 24 ore e brown pomade pencil waterproof allora la confezione è un 0,31 grammi e il prezzo è di 2 euro e 49 me lo sono segnata è questa qui e allora il prodotto ecco la penna automatica ma io l'ho proprio finita ma comunque sia ora vedete il video dove l'ho sbocciata e anche come si applica come è come risulta applicata grazie a tutti dunque il colore avevo detto il colore che colore è questa da qualche parte ci sarà il colore ma io non lo trovo comunque sia è un marrone non c'è proprio scritto non c'è proprio scritto vabbè allora la cosa che non mi piace di questa matita è l'applicatore cioè lo sfumino perché vedete aspettate eccolo qui è in penne in settore in silicone è proprio scomodo e duro quindi non mi è piaciuto ma ha usato uno sfumino di un'altra matita quindi non c'è problema allora mi piace la matita sicuramente mi piace molto perché comunque si ha un bel tratto si può anche temperare qui c'è il temperino incorporato quindi nel caso si vuole più a punta ma comunque già a punta la vogliamo ancora più a punta si può temperare ancora di più quindi buono è davvero waterproof l'ho provato in estate waterproof no però comunque con il sudore non va via io oltretutto ho la pelle mista quindi tende un po' a spostarsi o a macchiare troppo invece questa sta bella fissa al suo posto unica pecca ah intanto se va più una cera che è una matita quindi proprio tende a spiaccicare le ciglia le sopracciglia le tende a spiaccicare a tenere ferme belle rigide e poi io da brava tester ho segnato tutti i giorni che l'ho usata quindi ogni volta che la usavo segnavo e questa qui mi è durata la bellezza di otto giorni quindi una matita mi fa una settimana usata tutti i giorni otto giorni una settimana e un giorno è vero che costa due euro e 49 ma mi sembra un pochino poco ecco va bene è un prodotto waterproof quindi magari usiamolo solamente prodotto low cost che può andare bene se si può usare in alcune occasioni non tutti i giorni io ho usata tutti i giorni perché le sopracciglia le faccio tutti i giorni questa no e non ne vale la spesa comunque sia è un prodotto che funziona fa il suo dovere lo sfumino non mi piace ma per il resto con il caldo resta bella fissa anche se le se studiamo quindi perché no allora fatemi sapere intanto se avete provato questo prodotto e come vi siete trovate io come sempre spero di essere vi stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella qui così dovete avvisare ogni volta che carico un nuovo video di una recensione beauty low cost alla prossima ciao ciao